Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. Il Vangelo di questa domenica ci propone una discussione di Gesù con alcuni scribi e farisei. Essi sono indignati perché Gesù e i suoi discepoli prendono cibo senza aver prima fatto le abluzioni rituali e pensano che questo modo di fare è contrario alla pratica religiosa. Si tratta di una discussione che potrebbe sembrarci astratta, lontana dalla nostra sensibilità. Invece, come vedremo, anche questa parola del Vangelo ci aiuta a toccare degli snodi esistenziali fondamentali per vivere bene e praticare una sana spiritualità. In particolare, noi vedremo due punti. Partiamo dal primo. Scribi e farisei accusano Gesù di non osservare le tradizioni degli antichi. Dovete sapere che, oltre alla legge scritta, questi gruppi giudaici ritenevano che Mosè avesse dato una legge orale altrettanto vincolante. In questa legge orale rientravano anche queste abluzioni, cioè questi lavaggi di mani, di stoviglie, di cibi con annesse preghiere, ritenute necessarie per mantenersi in uno stato di purità davanti a Dio e poter accedere al culto. Gesù rimprovera questo atteggiamento e dice, bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto, questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me. In vano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio voi osservate le tradizioni degli uomini. Ora, miei cari, le parole di Gesù sono molto chiare, noi però ci chiediamo qual è il punto? Perché Gesù non osserva queste tradizioni che in fondo erano buone abitudini rituali? Perché per Gesù è importante riportare la fede al suo centro. Essi infatti osservavano delle loro tradizioni ma avevano perso di vista il centro, il cuore della volontà di Dio, che è l'amore, e anche il loro cuore. Vedete, qual è il rischio che tutti viviamo? Come ha detto bene il Papa, è quello di osservare formalità esterne mettendo in secondo piano il cuore della fede. Anche noi tante volte ci trucchiamo l'anima. È il rischio di una religiosità dell'apparenza, apparire bene fuori trascurando di purificare il cuore. Potremmo dire cristiani di buone maniere ma di cattive abitudini. C'è sempre la tentazione di tener buono Dio con qualche devozione più esteriore, ma Gesù non si accontenta di ciò. Gesù vuole una fede che arrivi al cuore. Al Signore interessa il nostro cuore, liberare il nostro cuore. Infatti Gesù subito dopo dice non c'è nulla fuori dall'uomo che possa renderlo impuro, invece è dal di dentro che nascono le cose cattive. Queste parole erano rivoluzionarie per la cultura di quel tempo. Gesù sta dicendo non è quell'alimento o quell'altro che ti rendono impuro davanti a Dio, ma è ciò che coltivi dentro. Pensate a quante volte noi diamo la colpa agli altri, ce la prendiamo con gli avvenimenti esterni, cerchiamo colpevoli fuori di noi quando il vero problema è dentro di noi. È un cuore chiuso e ripiegato su se stesso che produce i propositi di male e Gesù ne elenca dodici impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza, ossia mancanze d'amore. Dunque, miei cari, il Signore ci fa scendere nel cuore, ci invita a prestare attenzione a ciò che coltiviamo nel nostro cuore. È a partire da lì che si determina la nostra vita, la qualità del rapporto con Dio e con gli altri. Attenti, qui non si tratta di opporre esteriorità e interiorità, sono due dimensioni importanti della nostra vita che vanno integrate. Il problema è ridurre la fede a pratiche esteriori che non partono dal cuore o che non lo raggiungono. Se io ad esempio digiuno, ma questo digiuno è fino a se stesso o per sentirmi bravo o a posto, ma non mi aiuta nell'ascesi, a liberare un po' il cuore, a crescere nella sensibilità verso gli altri, a cercare con più intensità il Signore, sta fallendo il suo bersaglio, lo sto riducendo a qualcosa di esteriore che non raggiunge il cuore. Ecco allora il primo punto, non fermarci in superficie, ma scendere nel cuore, perché per il Signore ciò che conta è proprio lì. Ma tutto ciò, miei cari, cela un secondo punto ancora più profondo. Ci chiediamo, ma questo atteggiamento degli scribi e dei farisei da dove sorge? Da un impulso profondo, aggiustare se stessi, dare buona immagine di sé, sentirsi a posto davanti a Dio. Mie cari, scribi e farisei manifestano questo impulso, questo bisogno, nella ricerca della purità religiosa. Essi originariamente erano mossi dal desiderio di vivere tutto in comunione con Dio, ma per molti di loro il centro non era più Dio, ma l'immagine di sé, sotto il punto di vista della propria giustizia personale. Insomma, sentirsi giusti, puri, a posto. Nel mondo vi sono tante forme per dare sfogo a questo impulso, anche tra i cosiddetti atei. Ad esempio, vi sono persone che abbracciano filosofie orientali per cercare di purificarsi in qualche modo e tirar fuori il divino che è in sé. O pensate a stili di alimentazione estremi, che ne so, c'è chi mangia solo verdura, chi mangia solo frutta, chi spera di poter campare ad aria. Insomma, dietro spesso vi sono ideologie inerenti tentativi di purificazione o di essere in contatto con l'universo e via dicendo. O pensate alle persone che assolutizzano l'estetica, magari sono bellissime, per grazia di Dio godono di buona salute, eppure sono sempre alla ricerca della nuova moda, del nuovo rimedio salutista, ipercentrate su di sé, nel desiderio di dare un'immagine perfetta di sé e nella paura di perdere questo loro tesoro. Insomma, miei cari, sentirsi giusti, purificarsi in qualche modo, apparire gradevoli e fruibili, e altro ancora, il punto qual è? Passare la vita centrati su di sé, cercando di aggiustarsi con l'angoscia di non riuscirci mai del tutto. Ma scendiamo ancora più in profondità, in fondo da dove nasce tutto ciò? Da una percezione che ha un fondo di verità, quella di essere incompleti, fallibili, che c'è qualcosa che va sistemato, colpe che in qualche modo vanno rimosse. Qual è l'inganno? Pensare di potercela fare con l'arte del fai-da-te. Se ci pensate è quello che il serpente suggerì a Eva. Se mangerai dell'albero, del bene, del male, non morirai, sarai come Dio. Cioè, tu così come sei non vai bene. Per fare l'upgrade devi arrangiarti tu, devi risolverti tu. Mangia, cioè determina tu ciò che è bene da ciò che è male. Metti in atto le tue strategie perché da sola, con le tue forze, potrai essere come Dio. Ecco la fregatura. Cercare di risolvere se stessi da soli. Pensare di poter essere a posto, davanti a Dio, soltanto con le proprie forze. Attenti, questo problema può toccare anche noi credenti. Ad esempio, se abbiamo uno scarso contatto con noi stessi, unito a una certa immaturità, possiamo correre il rischio di assolutizzare alcuni aspetti e identificarci con quelle buone pratiche religiose che compiamo. E finire per sentirci a posto, persino meglio degli altri perché facciamo quelle cose. Ma al contempo, essere ciechi davanti al marasma che abbiamo nel cuore, ai sentimenti negativi che coltiviamo, ed essere pure sordi alle correzioni degli altri. Mie cari, si potrebbero fare molti esempi. Per dirvene un paio, possiamo essere persone legissime nel loro ritmo di preghiera, ma al contempo acide e senza misericordia verso gli altri. Ma noi ci sentiamo meglio perché preghiamo. Possiamo essere uomini di chiesa, attentissimi ad alcuni aspetti della liturgia, pizzi, merletti, esasperare l'aspetto del sacro, ma poi al contempo vivere tutto come un lavoro ed essere magari attaccati pure ai soldi. Insomma, il triste elenco potrebbe continuare. Il punto è che purtroppo dietro questi estremismi cosa si cela? La ricerca di noi stessi. Non stiamo veramente mettendo al centro il Signore e la sua volontà, ma il nostro io, il sentirci nel giusto. Non stiamo veramente cercando la conformazione a Cristo nella verità, ma l'immagine di noi stessi. Stiamo correndo il rischio di scambiare Dio con il nostro super io. Ora, questa incompiutezza che percepiamo in noi stessi non ci è data per rinchiuderci in noi stessi e nemmeno per la frustrazione, ma perché possiamo aprirci alla relazione. Infatti, la guarigione del cuore inizia da qui, dall'ammettere di avere un cuore malato e rivolgerci alla cura del Medico Celeste, senza paura di chiamare le cose per nome. Ammettere di avere una difficoltà o un problema ci costa tanto? Ci sembrerebbe quasi di morire? Bene, quella morte dell'immagine falsata di noi stessi porterà una vita nuova. E quando la smettiamo di inseguire i rituali ossessivi del nostro ego e ci mettiamo davanti a Dio per ciò che siamo, è in sincerità davanti agli altri e noi stessi che diventiamo fertili, che possiamo portare frutti d'amore, di benedizione, che profumano di vita, di vita eterna. E quando la smettiamo di truccarci l'anima, identificandoci con quelle quattro cose buone che facciamo, che possiamo diventare autentici. E quando ci lasciamo raggiungere dalla misericordia di Dio, accettando di lavorare pazientemente su noi stessi, che possiamo crescere, fiorire e portare frutti d'eternità, di bellezza, di gioia, che profumano d'amore. Cari fratelli e sorelle, che questa parola possa aiutarci a non fermarci in superficie, ma a scendere nel nostro cuore, non da soli, ma con Cristo, senza spaventarci dei tumulti e delle contraddizioni che abbiamo dentro. Egli, come disse San Bernardo, non ci ama perché siamo buoni, o perché ci mostriamo buoni. Egli ci ama per ciò che siamo, ed è così che ci rende più buoni. Che il Signore ci aiuti a capire che davvero ciò che conta è il cuore. Lasciamoci allora raggiungere lì, lasciamoci trasformare lì, e allora fuori di noi potremo portare ciò che realmente abbiamo dentro di noi, cioè il suo amore. Che il buon è a tutti.